come scegliere l'ancora giusta per la tua barca ultramarine rockna delta bruce le tipologie di ancora sono moltissime possono fare la differenza fra un buon ormeggio ed una barca spiaggiata e tu sei certo di avere l'ancora giusta oggi vedremo insieme le varie tipologie e i loro principali utilizzi le ancore disponibili sul mercato hanno una varietà di forme e dimensioni che sono più o meno adatte alla tipologia di barca che le andranno ad ospitare il motivo di una scelta così ampia dipende infatti dal modello le dimensioni ed il peso della tua barca ma anche dal tipo di uso che ne vorrei fare quindi condizioni del tempo e tipologia del fondale molti armatori scelgono la loro ancora basandosi quasi solamente sulla comodità di lancio e stivaggio è chiaro che una tante di 8 metri non potrà ospitare una grossa ancora da 30 kg ma in ogni caso ci sono vari fattori da valutare andiamo ad analizzarli uno per uno le ancore vengono classificate in base a diversi fattori il principale dei quali è la forma molti sostengono che la tenuta dell'ancora sia dovuta principalmente al suo peso ma in realtà come dicevamo l'ancora fa testa meglio o peggio soprattutto in base al suo design e dal tipo di fondale su cui utilizzarla chiaramente anche il peso influisce sulla tenuta dell'ancora quindi il secondo fattore da valutare è proprio il peso dell'ancora in relazione all'imbarcazione che vogliamo ancorare valuta che potrebbe capitarti di affrontare vento forte in baia e che quindi tu possa avere bisogno di un ancora più pesante se la tua è una piccola imbarcazione quindi non disponi di un musone adeguato per installare una grossa ancora è una buona idea avere un ancora leggera e maneggevole per i tuoi ancoraggi abituali e tenere in un gavone un ancora più appropriata se ti dovesse capitare un ancoraggio con vento forte ogni ancora ha le sue specifiche quindi prima dell'acquisto cerca o richiedi la sua scheda tecnica o fitment guide in questi grafici oltre le specifiche dell'ancora viene riportato quale ancora dovrà acquistare in base alla lunghezza e al dislocamento della tua barca a questo proposito voglio ricordarti che l'help desk del nostro store inelson.com è a tua disposizione per qualunque informazione tu voglia richiedere questo è un fattore non sempre valutabile sarà infatti più semplice scegliere la tua ancora se usi sempre le stesse rade e quindi conosci molto bene i fondali che frequenti la scelta risulterà più difficile qualora nelle tue navigazioni tenderai a navigare molto in questo caso incontrerai diversi tipi di fondale e profondità in generale ricorda che tutte le ancore lavorano bene su fondali sabbiosi dove la tenuta è quasi sempre affidabile nel fango dovrai essere certo di far penetrare bene la tua ancora per raggiungere lo strato più profondo e più duro dove la tenuta sarà sicuramente migliore mentre sui fondali dove sono presenti molte alghe è importante il peso dell'ancora attenzione ai fondali rocciosi dove il pericolo maggiore è dato dall'incagliamento dell'ancora qui scatta quasi obbligatoriamente l'utilizzo del grippiale del quale abbiamo già parlato nel video 5 consigli per ormeggiare in rade dall'ammiragliato alla ultramarine ora vedremo le caratteristiche di ciascuna ancora e come si comporta rispetto al fondale senza ombra di dubbio questa è l'ancora più classica infatti se si chiede ad un bambino di disegnare un ancora il risultato sarà più o meno un ancora ammiragliato sicuramente di ottima tenuta su tutti i tipi di fondale si presta però poco sul naviglio da diporto per la sua forma e dimensioni che ne rendono complicato l'uso ma non potevo non nominarla per questioni di bon ton marinaresco una piccola curiosità l'ammiragliato è proprio l'ancora che ti devi tatuare se hai attraversato la planchia questa è un ancora detta a maglie piatte articolata è sicuramente un ottima ancora per barche di piccole dimensioni o per essere utilizzata come seconda ancora grazie alla sua progettazione infatti è facilmente stoccabile in un gavone o per essere tenuta sui pulpiti in appositi supporti e pronta la sua tenuta è ottima su sabbia e fango ma diventa scadente in presenza di alghe e rocce se disponi già di questa ancora ricorda di controllare sempre che lo snodo non presenti incrostazioni se si procedi subito alla sua pulizia in quanto potrebbe essere limitato il movimento delle marre e di conseguenza la sua efficienza diminuirà drasticamente data in inglese anche navy l'ancora della marina è solitamente utilizzata su navi e yacht di grandi dimensioni affida le sue qualità al peso importante infatti risulta efficace su tutti i tipi di fondale a patto che sia di dimensioni adeguate al dislocamento dell'imbarcazione il grappino è un ancorotto a quattro mare denominato infatti anche ad ombrello proprio per la sua forma a differenza della haul il grappino compensa la mancanza di peso con la sua forma grappata le barche da pesca utilizzano una versione a mare sottili e fisse ed in questo caso il grappino viene chiamato rampino la versione a mare richiudibili e quindi molto facilmente stoccabile viene utilizzata soprattutto sui tender e i gommoni di piccole dimensioni la sua tenuta non è forte e quindi è sconsigliabile l'utilizzo come ancora di sosta prolungata le ancore a vomere o aratro come la Secure, la Delta, la Vulcan e la Cobra hanno il baricentro basso e la geometria Autoradrizzang abbinate all'ingombro ridotto fanno in modo che queste ancore siano le più diffuse su imbarcazioni di medie dimensioni la Secure che è l'abbreviazione inglese di Secure ovvero Sicuro è stato il primo modello della tipologia fu infatti inventata negli anni 30 come ancora per idrovolanti quali necessitavano di un ancora dalle doti aggrappanti con un peso ridotto da quel momento l'utilizzo fu riportato anche nella nautica e negli anni il modello è stato rivisto e migliorato con le successive Delta e Vulcan solo per nominarne alcune ottima su fondali sabbiosi di fango e anche sui ciottoli uno dei vantaggi che può riagganciarsi da sola al fondale anche se dovesse arrare la sua progettazione fa in modo che l'unghia penetri facilmente nel fondale ma il suo peso ridotto la rende poco affidabile su fondali con alghe il suo progetto è abbastanza recente viene infatti ideata negli anni 70 è un ancora davvero eccezionale su sabbia e fango dove le ampie orecchie fanno ottima presa con vento forte senza bruschi cambi di direzione la sua tenuta difficilmente perderà in quanto nonostante la catena possa oscillare sull'ancora questa difficilmente sposterà la sua posizione è una delle ancore che si adattano meglio alla forma del busone delle barche poco affidabile su ciottoli ed alghe ecco le indiscussa regine del momento ormai quasi tutti i giramondo hanno abbandonato i vecchi modelli per acquistare una delle ancore di nuova generazione indubbiamente tutte queste ancore si distinguono per le grandi prestazioni il contro è che il loro prezzo è più alto rispetto alle ancore classiche ma vediamole una per una nata da un progetto francese del 98 è forse la prima ancora definita di nuova generazione il 50 per cento del suo peso è spostato verso la punta ed il suo gambo è concavo in questo modo la penetrazione del fondale viene facilitata dal posizionamento automatico dell'ancore per quanto riguarda le marre queste prendono la forma concava di quelle della Bruce assicurando una buona tenuta anche in caso di brandeggio impegnativo le sue dimensioni non ingombano eccessivamente il musone la sua caratteristica principale è il roll bar con il quale è praticamente impossibile posizionarla al contrario sul fondale anche facendolo di proposito le sue dimensioni sono abbastanza contenute elevando la presenza del roll bar quindi si adatta facilmente ai musoni delle barche puoi acquistare rocna in acciaio inos o in acciaio galvanizzato la garanzia vita ti farà sentire sicuramente più tranquillo anche lei è dotata di roll bar è però composta da più pezzi che dovrai assemblare la forma delle sue lame è decisamente più ampia della rocna e questa caratteristica le conferisce il vantaggio di una tenuta di fondale ancora migliore soprattutto su sabbia e fangue la sua voluminosità è però anche il suo svantaggio se deciderai di acquistarla controlla bene le dimensioni per essere certo di poterla mettere sul musone della tua barca costituita da una struttura mono pezzi in acciaio inossidabile 316 è sicuramente un ancore efficiente, durevole e bella da vedere la sua caratteristica principale è la forma e la distribuzione dei pesi nonostante sia priva di roll bar il suo capovolgimento è quasi impossibile grazie alla marra con anima in piombo ed il fusto cavo sicuramente un pezzo di altissima ingegneria super sicura con qualsiasi tipo di vento e fondale oggi abbiamo paragonato i vari tipi di ancora presenti sul mercato e le loro tipologie quindi ora hai le basi per visitare il nostro store online a inelson.com e scegliere quella perfetta per la tua imbarcazione ricorda però che un ancora è funzionale se anche gli accessori che la collegano alla tua barca lo sono ma parleremo della linea di ancoraggio aggiunti in un altro video queste sono solo alcune delle ancore presenti in commercio e sono curioso di sapere qual è la tua e le tue esperienze nei commenti cerca tutti i prodotti menzionati in questo video sul nostro store a inelson.com e come sempre ricordati di iscriverti al nostro canale ed attivare le notifiche oltre a seguirci anche sulla pagina facebook un saluto a tutti gli aspiranti livebord ed un arrivederci alla prossima puntata buon vento